Nella Juventus debutta allo stadio delle Alpi Davids, sono sempre assenti Montero, Pessotto, Deschamps e Amoruso, mentre nell'Empoli Rocchiati sostituisce fra i pali Cocic, con Floriancic, partner di Esposito, in attacco al posto di Cappellini. La direzione di gara è affidata all'arbitro Serena e la nostra sintesi comincia al quarto d'ora del primo tempo. Un pallone che rimbalza nella zona di Del Piero, quindi Zidane, arriva anche Conte, la sua rifinitura, tiro di Del Piero, respinto e Inzaghi è il pallone in rete. Quindicesimo minuto, Juventus 1-Empoli 0 e settimo gol in campionato per Inzaghi. Passano appena 83 secondi e su questo calcio di punizione di Zidane, deviato di testa da Juliano, la Juventus colpisce ancora con Del Piero, smarcato a tu per tu con Rocchiati. Al sedicesimo minuto Juventus 2-Empoli 0 e comincia la domenica da bomber del fantasista. Dalla legittima euforia del giocatore bianconero passiamo ad una considerazione di natura tattica. Lippi lascia la fascia sinistra a disposizione di Torricelli e così Davids può scalare al centro, trasformandosi in un ringhioso Rottweiler, costantemente in pressing sui portatori di palla dell'Empoli. Vediamo gli sviluppi di questa rimessa in gioco di Di Livio. Il controllo di Del Piero supera Bianconi, subisce poi l'intervento di Tonetto ed è calcio di rigore concesso dal direttore di gara Serena. Rigore battuto dallo stesso Del Piero. La sua rincorsa, calcia di destro, respinta del partiere, ancora Del Piero e De Gaulle. 27esimo minuto, Juventus 3-Empoli 0 e non a gol in campionato di Del Piero. L'Empoli comunque non si arrende, attenzione alla bellissima punizione battuta da Floriancici che supera Peruzzi al 41esimo. Empoli 1-Juventus 3. Rivediamo il tiro ad affetto con la palla che si insacca fra palo e portiere. C'è uno scambio di idee molto gestuale alla fine del primo tempo fra Del Piero e Martuscello, mentre il montaggio di Alessandro Morbidelli ci sta per mostrare Rampulla pronto a rilevare l'acciacciato Peruzzi. Ed ora vediamo le fasi salienti della ripresa. Questo controllo è di Zidane. Il lancio in profondità molto bello per Del Piero, dribbling ed è ancora gol. Decimo minuto, Juventus 4-Empoli 1 e decimo gol in campionato di Del Piero, che con 16 reti diventa il capo cannoniere stagionale assoluto, mentre in Serie A scavalca Ronaldo e si porta alle spalle di Battistuta. Le sonore capocciate con Ferrara non demoliscono Martuscello, che con il suo epico look da gladiatore simboleggia lo spirito dell'Empoli. Intervento contemporaneo di Davids e Birindelli su pane e quindi anche qui calcio di rigore. Siamo al 29esimo, esposito contro Rampulla e la palla in gol. Quindi Empoli 2-Juventus 4. Adesso ultimo episodio, ultimo gol al 34esimo. Munizione di Davids, leggera deviazione di Tonetto in barriera e la partita si chiude sul 5-2, con l'olandese festeggiato, direi, impetuosamente dai nuovi compagni di squadra. Ed ecco la ripetizione di questa rete. È stata una vittoria importantissima per la Juventus, che chiude quindi il 1997 con grandi motivazioni psicologiche. Grazie. Grazie.